Vi è una categoria che Antonio Gramsci impiega largamente nell'impianto dei quaderni del carcere e questa categoria è quella della rivoluzione passiva. Come spesso accade, Gramsci mutua da altri autori, anche diversissimi per epoca storica e per tradizione di pensiero, le sue principali categorie concettuali. In particolare la categoria di rivoluzione passiva è desunta da Cuoco, che l'aveva applicata in riferimento alla rivoluzione partenopea. Qual è la rivoluzione passiva ad avviso di Gramsci? La rivoluzione passiva è per essenza la rivoluzione non sociale condotta dai dominati in vista della propria emancipazione, è al contrario la rivoluzione gestita dai dominanti per intensificare il proprio dominio, per rinsaldare lo sfruttamento sui dominati e quindi non già per sagnare il passo verso un nuovo modo della produzione, bensì per intensificare, rafforzare, stabilizzare il vigente modo della produzione. Se la rivoluzione sociale gestita dai dominati è quella che permette il transito intermodale a una nuova forma di esistere e di produrre, la rivoluzione passiva gestita dai dominanti è quella, ci insegna Gramsci, gestita dai dominanti in vista del mantenimento dell'ordine reale simbolico che li vede dominanti. Ed è quindi una rivoluzione tesa non già a oltrepassare il modo vigente della produzione, ove i dominanti dominano, bensì a rinsaldare quell'ordine di modo che i dominanti seguitino nel loro dominio. Gramsci adduce tutta una serie di rivoluzioni passive per suffragare la propria categoria, utilizza come esempio la rivoluzione passiva del fascismo in Italia, che ha rinsaldato la classe dominante in una fase in cui essa cominciava a perdere la propria egemonia e il consenso, impiega l'esempio della rivoluzione fordista americana nel quaderno 22, l'esempio cioè del fordismo come prolungamento organico della società capitalistica al di là dell'oceano, utilizza ancora l'esempio del risorgimento italiano come rivoluzione passiva che ha rinsaldato il nesso di forza capitalistico. Ora in che senso è possibile sostenere che ci troviamo oggi, nell'epoca schiusasi con il 1989, nel bel mezzo di una rivoluzione passiva gramscianamente intesa? Io credo essenzialmente che il 1989, che le sempre dominanti retoriche neoliberiste continuano a magnificare come l'anno della liberazione e dell'emancipazione, corrisponde in realtà all'anno di cominciamento di una grandiosa rivoluzione passiva. Di liberazione e di emancipazione si può parlare a partire dal 1989 sempre e solo in riferimento ai dominanti, i quali sono vi è più venuti liberandosi ed emancipandosi dai limiti che la classe operaia organizzata e che dallo Stato come potenza etica vanno posto al dominio del capitale, stabilendo unixunt leones invalicabile per le leggi competitivistiche del mercato, tutelando la forza lavoro, i diritti e le sfere dell'esistenza del mondo proletario e borghese mediante forme inaccessibili alla forma merce e alla legge della valorizzazione del valore. Dopo il 1989 il capitalismo, gestito dai signori del mondialismo post-borghesi e post-proletari, è passato all'assalto, all'assalto dello Stato, che infatti esso capitalismo mira a destrutturare in modo da imporre il dominio dell'economia denazionalizzata e spoliticizzata, la sola legge competitivista deregolamentata su scala globale, ed è passato all'assalto, in maniera convergente, dei diritti del lavoro delle classi lavoratrici, oggi sotto attacco da parte del capitale e dei signori del globalismo, che con altrettante riforme stanno portando via tutto, tutte le principali conquiste del lavoro alla classe dominata. Ecco, dopo il 1989 siamo nel bel mezzo, diremmo con Gramsci, di una rivoluzione passiva, a Lembadieu in Francia l'ha chiamata una seconda restaurazione, con la quale il capitalismo vincente sta rinsaldando il proprio dominio, sta rivoluzionando il quadro della produzione, non già per segnalarne un possibile oltrepassamento verso nuove figure, bensì per rinsaldare, per mantenere, per fare durare, direbbe ancora Gramsci, il vigente modo della produzione, post-borghese, post-proletario e ultra-capitalistico. Ecco perché siamo nel bel mezzo di una rivoluzione passiva, i cui tratti essenziali sono per un verso l'aggressione frontale ai danni del mondo del lavoro e della classe media e lavoratrice, che viene continuamente attaccata mediante riforme gestite dai mondialisti globalizzatori e competitivisti per distruggere le conquiste sociali del lavoro, e per un altro verso abbiamo come movimento simmetrico, coerente con questa rivoluzione passiva, l'aggressione frontale ai danni dello Stato sovrano nazionale come luogo del primato della politica sull'economia e quindi come luogo della gestione del conflitto in forme che impediscano ai dominanti di neutralizzare i dominati. Lo Stato sociale è il luogo che permette il sopravvivere di diritti materiali, diremmo con Hegel, che possano giovare anche alla condizione dei dominati. Ecco, siamo dunque nel quadro di una rivoluzione passiva ed è bene averne contezza, perché la coscienza è il primo gradino per poter organizzare il conflitto e l'opposizione rispetto a questo modo della produzione post-borghese, post-proletario e ultra-capitalistico.